Eccoci qua amici della Muay Thai, come potevo non provare il sacco dell'Ariro Nitro appena arrivato. Allora sì sono un po' pesantito nella cucina italiana ma qualche calcetto lo tiriamo ancora. Vedete la bellezza di avere il sacco di odio che puoi cambiare da i kick a lo kick, leader kick, quello che vuoi. Io gli ai kick non l'ho visto tirare, ho legato come un becchio ma, ginocchiate. Le spinte, il lavoro delle spinte è molto importante qui di qua c'è, vedi avendo le spinte ma il sacco non muola via. Ti sei qua. Ui, ui. Eh, mi è piaciuto, è lui. Prendi il bici del lui. Ehm, ui. Ehm, ui. Ehm, ui. Ehm, si fa. Ui. Ehm, ehm. Ui. Ui, ui, ui. andando oh 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 ah ah oh oh du du oh oh sunshine oh 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 sai qua dacca dacca oh 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 motlen kopukap